Il turismo è un'economia importante che fa un fatturato di 5 miliardi 168 milioni di euro da 75 mila posti di lavoro ma va sostenuta ovviamente con attività e con azioni che consentono di fare in modo che il prodotto Liguria possa essere conosciuto e acquistato da chi poi fa una vacanza e se non c'è un'agenzia che lo fa conoscere e crea gli strumenti perché venga acquistato è difficile che poi si raggiungano tali livelli di fatturato e di lavoro. Cifre che mettono subito le cose in chiaro, nonostante la crisi e la diminuzione del PIL il settore turistico resta un punto di forza. La Liguria non fa eccezione, il ruolo dell'agenzia in Liguria diventa sempre più cruciale per coordinare e gestire le attività di promozione. Si è avuto un certo successo sul mercato internazionale per cui i numeri sono aumentati circa il 9% negli ultimi 4-5 anni e questo è dovuto anche, non solo, ma anche al lavoro di promozione che l'agenzia ha fatto insieme ai sistemi turistici locali, alle province, al comune di Genova, agli operatori, sui mercati internazionali più importanti. Torta di riso finita a luogo comune o pregiudizio? Il risultato arriva dagli studi I-Tour Stat e I-Tour Coming. Sono due indagini di mercato fatte da una società specializzata che ci ha dimostrato tutto sommato che la Liguria non è così messa male, soprattutto a livello operatori. Il luogo comune era che la torta di riso era finita, abbiamo invece rilevato che c'è una notevole professionalità da parte degli operatori. Un ruolo importante lo svolgono anche il sito internet e la pagina Facebook. Sì, il sito internet diciamo che, diciamo un po' scontato se vogliamo, perché ormai le destinazioni e quant'altro non tutte si è dite, la pagina Facebook invece è quella che crea viralità, sia sul sito internet, sia su quelli che sono tutti gli aspetti dell'offerta turistica Ligure, la viralità classica del passaparola. Grazie a tutti.